ciao fenomeni ecco qui il vostro diablo tex che oggi è qui per un unboxing di grande livello secondo me ragazzi guardate che cosa mi è arrivato akiba strip ragazzi per playstation 4 adesso parola unboxing il gamestop non ce l'aveva ragazzi non capisco perché la versione per station 4 che uscita ieri 5 febbraio non c'era il gamestop e va bene non ci interessano a me è arrivato ugualmente la multiplier con un giorno di ritardo perché sono consegnati in ritardo ragazzi però adesso passiamo un box in guada di livello tex va via la pellicola ecco qua ragazzi lo faccio vedere la grande ragazza c'è ragazzacce qui o ecco qua avanti e dietro poi sono in is america la grande ragazzi secondo me questo gioco anche se nelle recensioni non è che ha avuto buoni voti però secondo me è un gioco particolare che non so se può piacere a tutti ma io credo che non so se magari riesco a far pubblicare a mettere il primo gameplay sul canale in serata anche sul tardi vedremo il vostro diabolo ex è capace di tutto quello sapete ormai ecco mi spoglio anche qui faccio vedere almeno il libretto esiste questa volta qui il libretto manuale e anche qualche pagina sia bene bianco e nero però ragazzi va più che bene o più che bene ve lo sfoglio faccio vedere un po vabbè poi tanto non c'è più nulla da vedere c'è niente ecco faccio vedere per intero così da dietro guardate qui che bello akiba strip versione precision 4 adesso vi farò vedere anche il disco del gioco essi eccolo qui eccolo qui guardate più bello sono giochi non per tutti diciamo però delle piacere in genere allora ragazzi ho preso la versione precision 4 perché sicuramente qualcosa di migliore avrà ecco adesso vi faccio vedere qui dietro non so se mette a fuoco la webcam qui è scritto quello che è e e vi dico subito cosa in pratica vabbè oltre 500 oggetti equipaggiabili sentieri differenti e finali multipli poi gioca con le voci inglesi inglesi originali o giapponesi io credo che metterò quelli giapponesi perché tutto un altro pianeta poi dice la versione playstation 4 include visuali migliorate grazie a un editor live streaming una modalità toy box per gli oggetti rari e molto altro quindi credo che sia sicuramente poi contiene se ho letto bene contiene anche tutti dlc della versione ps vita e playstation 3 quindi la versione definitiva completa ragazzi quindi ho aspettato per prenderlo la versione per playstation 4 anche se per playstation 3 per se c'è un vita è uscito nel mese di ottobre quindi non so se questa sera partirò con gameplay ci proverò ragazzi diamo il tempo che questo è stato l'unboxing di akiba strip ecco qua sempre dal vostro di apotex un saluto a tutti ragazzi e ragazze e ci sentiremo per i gameplay che arriveranno sul canale ciao a tutti